quello che viene chiamato il poemandres il poemandres che poi significa pastore d'uomini è il santo spirito il poemandres o pimandro è il santo spirito l'intelligenza onnicreante il santo spirito onnicreante adonai è invece l'archetipo padre della nostra specie della specie umana e risiede nel sole risiede nel sole è il capostipite il monarca universale solare e questo è adonai la cui espressione e manifestazione che noi conosciamo è adoniesis è un tutt'uno con il padre diciamo quindi così ma il poemandres invece il santo spirito onnicreante l'intelligenza onnicreante è il mai nato il mai generato l'ingenerato il moto motore l'ingenerato l'increato creatore ecco quello è precede la creazione stessa è l'intelligenza dal cui seno scaturiscono anche gli dèi è quello e il poemandres grazie a tutti grazie a tutti